Il Covid continua a farci vivere nell'incertezza, il virus aggredisce e siamo ormai entrati nella quarta ondata, così come sottolineato anche dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo appuntamento settimanale via social. Il vaccino pare perdere la sua efficacia dopo 6-9 mesi secondo gli studiosi, quindi la terza dose diventa inevitabile così come l'eventualità che il vaccino anti-Covid debba essere somministrato almeno una volta all'anno, proprio come accade, per difendersi dall'influenza invernale e prevenire problematiche stagionali. In Campania, dopo il picco dei quasi mille positivi dell'altro giorno, si è scesi di un centinaio circa, ma l'aumento dei contagiati rimane costante, situazione che presto potrebbe creare disagi anche negli ospedali. I nosocomi, ha detto ancora De Luca, potrebbero subire un calo prestazionale per le altre patologie, proprio perché impegnati i medici e i paramedici eventualmente ad affrontare la situazione Covid. È prevista per martedì prossimo una riunione in Regione con i direttori generali di aziende ASL per fare il punto della situazione sui posti letto disponibili. Insomma, si rischia di assistere a un film già visto, con la speranza che siano minori i danni per la popolazione più in difficoltà. Ecco perché per le categorie fragili e i settori più esposti, tipo il personale scolastico, potrebbe esserci un'accelerata per il discorso vaccinazioni. I bambini non vaccinati sono in questo momento il maggior veicolo di trasmissione del contagio ed è per tale motivo che nell'ambito scolastico bisogna intervenire in modo rapido perché se da un lato non si vuole arrivare a chiudere di nuovo le scuole, dall'altro è evidente che il problema persiste con il potenziale rischio di farle evitare i focolai. Vaccinazioni. Sono 8 milioni e 300 mila le dosi inoculate in Campania tra prima, seconda e terza dose. Tra prima e seconda dosi continua ad esserci una disparità di circa 500 mila utenti, quindi significa che non è stato ancora completato il ciclo per questi. Mentre si sono sottoposti alla terza dose in Campania, 250 mila persone finora. In provincia di Salerno sono circa un milione e 600 mila le persone con almeno una dose di vaccinazione anti-covid. Infine la questione manifestazioni. Si devono svolgere col pubblico, ma con l'obbligo del Green Pass, ha detto De Luca. Altrimenti c'è il potenziale rischio dell'effetto Trieste, vale a dire di avere dopo due settimane il 300% di aumenti dei contagi, proprio come è avvenuto nella cittadina del Friuli. Sinceramente sono cose che possiamo risparmiarci, quindi massimo rigore e massimo controllo, ha concluso il Presidente.